Dalla dashboard principale, seleziona il programma di lievitazione non-stop, che ti permetterà di gestire, a qualsiasi ora del giorno, grandi rotazioni e varietà di prodotti freschi. In qualsiasi momento, tramite il tasto I, puoi accedere all'assistente con tutte le informazioni di utilizzo della schermata corrente. La lievitazione non-stop ha un'unica fase in cui puoi impostare la temperatura fissa, il grado di umidità ideale per i tuoi prodotti e la velocità di ventilazione. Al termine del ciclo potrai salvare i dati HACCP inserendo i dati richiesti nella schermata di salvataggio. E inoltre, se il ciclo di lievitazione non-stop ha subito delle variazioni, potrai salvarlo nella libreria. Grazie. 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 Grazie.